Atlantide. Un'antica civiltà prospera, inghiottita dal mare. E se non fosse solo un mito? Alcuni studiosi ipotizzano che Atlantide giaccia sotto i ghiacci dell'Antartide, un continente perduto, congelato e misterioso. Potrebbe Atlantide essere nascosta qui, silenziosa, sotto un mare di ghiaccio. Non c'è solo questo. Rilevamenti satellitari hanno registrato inspiegabili anomalie magnetiche e gravitazionali in diverse aree. Alcuni scienziati ipotizzano che queste stranezze possano nascondere tracce di una civiltà perduta. Formazioni misteriose, troppo precise per essere casuali. E se fossero i segreti di Atlantide, sepolti sotto chilometri di ghiaccio? Questi segnali invisibili ci chiamano a indagare, alla ricerca di un passato che il continente ghiacciato conserva da chissà quanto. Possiamo osservare laghi antartici isolati per milioni di anni. Queste acque, rimaste intatte, potrebbero nascondere tracce di antiche forme di vita, o forse, indizi di una civiltà perduta. Ogni scoperta qui potrebbe riscrivere la storia e portare alla luce segreti mai immaginati. Il ghiaccio conserva strati di storia geologica, ognuno contenente testimonianze di epoche passate. Alcuni studiosi ipotizzano che una catastrofe globale, come un grande tsunami o un terremoto, possa aver distrutto Atlantide. Ricerche recenti indicano cambiamenti improvvisi nei depositi glaciali, segnali di un evento cataclismatico che potrebbe coincidere con la fine della leggendaria civiltà. Tra le nevi eterne dell'Antartide, si erge una formazione dalle linee precise, soprannominata, la Piramide del Sud. Con facce lisce e angoli definiti, ricorda le antiche piramidi di altre civiltà. Alcuni, credono sia una struttura artificiale, forse costruita da Atlantide, che custodisce reperti e scritture di una civiltà perduta. Un altro mistero è la presunta Base 211, una leggendaria base nazista nascosta in Nuova Svevia, Antartide. Si dice che i nazisti, negli anni 30, abbiano creato un rifugio avanzato e sviluppato tecnologie segrete. Dopo la guerra, spedizioni come l'operazione High Jump degli USA, alimentarono le voci su una presenza. Alcuni scienziati hanno registrato impulsi di energia provenienti da un punto specifico, chiamato il Portale delle Stelle. Questa anomalia si manifesta a intervalli regolari. Secondo alcune teorie, Atlantide potrebbe aver creato una tecnologia capace di manipolare energia o aprire passaggi verso altre dimensioni. Gli indizi ci portano più vicini, ma Atlantide rimane ancora nascosta, come un'ombra sotto i ghiacci. Forse non scopriremo mai la verità, ma l'Antartide ci ricorda quanto è vasto e inesplorato il nostro mondo. Il mistero di Atlantide, vivo nei miti e nei ghiacci, continua a sfidarci, invitandoci a scoprire ciò che potrebbe ancora attendere. Grazie.